L'opera è quasi completata, l'artista che l'ha disegnata, Ivano Domenico Felaco, molto conosciuto, ecco, il volto di questa donna è quello di Beatrice Cinci, è vero? Lo vogliamo un po' descrivere questa parte oscura del loccio destro? Cosa rappresenta? La parte sinistra, insomma. Ah sì, sinistra, chiedo scusa. Vabbè, sinistra perché io guardavo... La parte in ombra. La parte in ombra, dai, la parte in ombra. Viene fuori dall'ombra, grazie anche all'intervento del mio grande amico Giorgio Zapparella, che ha fatto una citazione a riguardo, l'abbiamo studiata insieme quest'opera. Parliamo del poeta nostrano Giorgio Zapparella. Che poi verrà fissa qui. Una targa? Una targa, sì. Una targa, quindi quest'ombra... La sua citazione è che Beatrice, insomma, era nell'ombra che meditava questa sua libertà. Poi la leggeremo. Il collaboratore abbiamo... Lo scoglieriamo insieme. No, 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 non anticipiamo, abbiamo anche il collaboratore, il nostro Domenico Granale, che abbiamo presentato stamattina, hai collaborato anche a questa opera, immagino. Sì, ho dato anche una mano a punta di mano. Quindi possiamo dire che... Una mano importante, una mano molto... Ecco, è molto umile, è vero, maestro? Sì, sì. Questo è veramente una cosa che gli fa onore.